Qual è la connessione tra l'acqua e una sbornia? Una sbornia si verifica dopo che una persona ha bevuto troppo alcol. Quando l'effetto di intossicazione del liquore comincia ad andare via, può iniziare una sbornia. I sintomi di una sbornia includono tipicamente affaticamento, mal di testa e più comunemente sete, perché l'alcol è molto disidratante. L'acqua e la sbronza vanno di pari passo nella mente di molte persone perché bere molta acqua aiuterà a reidratare il corpo. Le persone possono idratare i loro corpi con acqua e si può evitare una sbronza o almeno gli effetti disidratanti di una sbornia. Alcuni dicono che una persona dovrebbe bere qualche bicchiere d'acqua prima di uscire in un bar. Inoltre, è raccomandato per le persone di avere un bicchiere d'acqua tra ogni bevanda alcolica per ridurre la possibilità di una sbornia. I frequentatori di feste che stanno cercando di ottenere un brussi o bevendo alcolici potrebbero non optare per questo metodo perché non si ubriacheranno altrettanto rapidamente. Chiunque desideri bere socialmente ma vuole evitare di ubriacarsi, tuttavia, potrebbe avere successo con questo trucco. Dopo che una persona torna a casa da una notte di bevute, l'acqua e i postumi di una sbornia possono essere la combinazione perfetta. Se qualcuno si prende cura di un amico che sembra avere una sbornia, lui o lei può dare il suo amico acqua per la massima idratazione. L'acqua è sempre una scelta molto migliore del succo o della soda. Il consumo di acqua può aiutare a calmare il mal di testa post-consumo di una persona e può liberarsi della sensazione di secchezza che potrebbe avere un individuo in stato di ebbrezza. Se una persona sta dando una mano a un amico che si sente ancora nauseabondo bevendo troppo alcol, l'acqua è importante ma deve essere deglutita lentamente. Qualcuno che è molto nauseato dovrebbe prendere piccoli sorsi d'acqua mentre si siede. Una persona nauseabonda che sbuffa troppo velocemente potrebbe iniziare a vomitare. Una persona potrebbe bere molta acqua e una sbronza potrebbe essere ancora presente il mattino successivo. Anche se l'acqua svolge un ruolo fondamentale nell'aiutare le persone a superare i postumi di una sbornia, ci sono altri rimedi che possono aiutare. Se una persona ha mal di testa il giorno dopo, lui o lei dovrebbe prendere un po' di aspirina insieme all'acqua. Uscire a bere a stomaco pieno è anche molto meglio che bere a stomaco vuoto. Le persone che pianificano di consumare più bevande alcoliche dovrebbero essere sicuri di mangiare prima o durante una festa per aiutare a evitare un'intossicazione eccessiva e una brutta sbornia il giorno dopo. Grazie. 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 Grazie.